Dove è il momento che vi incannichi leip W sooooh è sexy Madonna Madonna Ma che bello è Sembra tumore fino alla fine Ok qua è fatta Nelhape ho ancora vinto un'altra volta ma lui che fa? suca? è abbastanza ha preso 0 questo hurricane? mi sa che è spedef questo anni leap allora si si aveva detto che lo giocava spedef con ballpark 0% di hurricane ci credo che è spedef è bello tumore non è uscito da te però non basterà per vincere suppongo invece di si si qui è danzato o si vinci? no non l'ho danzato perché è band ah è band scusa e qua può entrare jet punch palafine scusa usare wave crush non jet punch ma anche cross combat adesso vediamo se great task esplode da waterfall da liquidation ma esplode no però quasi ecco peccato per la jet punch che è prioritario eh no è che oddio è più veloce no oh questo giocava con jet barra schiuda mi ha fatto un po' direzzare no ma tanto c'è jet punch è un vero peccatissimo oh gg oh ho appena inizio un altro invito ok tanto avviso starà cercando credo cambiamo l'ottimo avatar purtroppo non siamo più fede cazzo cazzo l'ho di tiro e comunque eh board ok se vuoi ok comunque abbiamo perso per ax basta basta ecco io non ho visto gli ax cosa? abbiamo perso per la confusione ah è vero è stato abbastanza brutto che è successo? ma cos'è questo? è random? non volevo fare random sei bugato aspetta non ho capito ci riprovo piedini bizzorri ci provo una seconda volta il fatto è che scarlatti vetri sono bugati ma anche showdown lo è a questo punto vabbè certo l'ho implementato questo rifiuto no non andare in giunto non andare in giunto ehm ah di streff è il mio team face impression nice 67 vuoi buoni danni? buoni danni? non è assolutamente bend cos'è quel danno di me? no invitami scarf? mh non lo so non era orb no non lo so niente ah se solo tu avessi spedef roaring moon vabbè dai datemi le credenziali mi sono rotti col mio non possiamo dirle qua adesso in questo momento quindi te le scriverò su whatsapp allora mandami un invito eccetera sono come voi su whatsapp voglio vedere le partite invitalo allora ti invito invite se sono bm sfigate mettono le private ecco qui eeeh bene bene vai abbiamo vinto mi sa se solo non ha visto i mechpunch o wasnik anche è che ne ho di priority io in questo team è pieno glimora è che ne ho visti io di glimora spikes spikes io ti avrei air power perchè non ti avrei air power è una mossa offensiva usala non ho cliccato io non ho cliccato il momento allora se non hai dato le credenziali a fpg l'hai cliccato tu io non l'ho cliccato perchè io non l'ho cliccato perchè io non l'ho cliccato assolutamente ma spera guarda ok ma tu hai scritto davvero le credenziali in un posto dove emu può raggiungere sono loggato cioè sono loggato con fpg no ma emu non sa le credenziali cioè magari lo sa però io non l'ho scritto adesso quindi l'hai ripescato dai messaggi vecchi oppure semplicemente allora o c'è Luigi nell'account o c'è Luigi nell'account o ci ha voluto salutare facendo una play di merda oppure l'hai fatta tu non so a me non mi sembra poi magari mi ha cliccato per sbaglio nella fretta e colpa mia anche non lo so ehm vabbè tanto non ci servirà del poco per vincere cioè in realtà si cioè adesso non hai neanche una priority su Pung e allora allora mettiamo Iron Bundle e ci facciamo una terra uccidere terra vuota e lo faremo l'acqua solo perché lui non può permettersi no ha fatto crit ma non non è morto di non è morto di vabbè peccato però non lo so non lo so con il misclick da dove è nato se effettivamente chi è quel coglione che ha cliccato la mossa sbagliata nel dubbio secondo me è Kijo e diamo la colpa a lui ho detto basta non è morto di giusto non è morto di giusto che le si